Riyad palcoscenico di una nuova era, Yannick Sinner con il suo tennis sublime e una determinazione incrollabile ha alzato al cielo il trofeo del Sixth King Slam, consacrandosi come il nuovo re indiscusso del tennis mondiale. Una vittoria che va oltre i numeri, un'affermazione di talento e carattere che segna un punto di svolta nel panorama tennistico. Dopo aver assistito all'epica sfida tra le leggende Djokovic e Nadal, il Sixth King Slam ha visto scontrarsi due giovani dominatori del circuito, Sinner e Alcaraz. Un duello che ha tenuto col fiato sospeso il mondo intero e che ha regalato emozioni uniche. Dopo tre sconfitte consecutive contro lo spagnolo, l'azzurro è riuscito a invertire la tendenza, dimostrando una crescita esponenziale e una maturità che lo proiettano verso il futuro da dominatore. La vittoria di Sinner al Sixth King Slam non è solo un trionfo sportivo, ma rappresenta un momento storico per il tennis italiano. Il giovane alto attesino è riuscito a sbaragliare la concorrenza e a imporsi sulla scena internazionale, diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni. Un successo che inorgoglisce l'Italia e che alimenta le speranze di un futuro radioso per il nostro tennis. Il Sixth King Slam ha sancito il passaggio di testimone tra la vecchia e la nuova generazione. Sinner e Alcaraz sono i nuovi protagonisti del circuito, destinati a dominare il tennis dei prossimi anni. La loro rivalità è destinata a infiammare i cuori degli appassionati e a regalare emozioni indimenticabili. Yannick Sinner ha scritto una pagina indelebile nella storia del tennis. La sua vittoria a Riad è un punto di partenza, non di arrivo. L'Azzurro ha dimostrato di avere le carte a regola per restare il numero uno al mondo e per vincere i tornei più prestigiosi del circuito. Il futuro del tennis è nelle sue mani.